Qui in India stavo riflettendo sul fatto che tutto il mitico sapere della saggezza indiana è stato tramandato per secoli con la tradizione orale e ha generato una civiltà di un certo tipo. Poi si è passati a una tradizione scritta che ha fatto evolvere la civiltà in una modalità ancora diversa e ora che la conoscenza si tramanda con la tradizione digitale, quale sapere viene trasmesso e quale civiltà raccoglierà il messaggio per portarlo verso quale direzione? Mi domando.